pronto non sento niente forse non c'è il segnale magari riprovo dopo cosa sto telefonando con un taco avete ragione mi sono confuso ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video il protagonista del video è il nokia engage è un telefono molto particolare perché lo possiamo considerare come il primo telefono console portatile al mondo tutto nacque nei primi anni del 2000 dove nokia si accorse che i giovani utenti di cellulari andavano spesso in giro sia col proprio telefono che con una console portatile come nintendo gameboy allora ecco che nel 2003 il nokia engage debutta sul mercato proponendosi come un prodotto in grado di essere un telefono e una console portatile allo stesso tempo andando a sfidare così il gameboy advance il design chiaramente ricorda quello di una console portatile a sinistra abbiamo il d pad che serve per muoversi nelle varie direzioni mentre a destra abbiamo due tassi del tasserino numerico che funzionano come pulsanti azione nei giochi devo dire che molto leggero nelle mani allo stesso tempo il design permette di raggiungere comodamente ai vari pulsanti al centro abbiamo uno schermo da 2.1 pollici con un orientamento verticale che ricorda più quello di un telefono piuttosto che quello di una console portatile abbiamo anche pulsanti per funzionalità di telefono ecco i pulsanti per gestire le chiamate e poi il tasserino numerico ma anche tasti per funzioni multimediali questo perché a bordo abbiamo il Symbian OS che se vogliamo lo rende un telefono molto avanzato come uno smartphone lettore video possibilità di scorrere foto radio premendo qua ad esempio si apre il lettore musicale se aggiungono poi porta usb bluetooth il tutto a rendere questo telefono molto completo considerando soprattutto il fatto che è un telefono che ha quasi 20 anni per quanto riguarda i giochi si contano una sessantina di giochi sviluppati nel tempo per il nokia engage giochi comunque di alta qualità e anche con grafica 3d qui abbiamo pandemonium e poi tomb rider di cui andiamo a fare anche l'unboxing ecco pandemonium pandemonium è un titolo dotato di grafica tridimensionale guardate qua salta siamo nei panni di nicchi guardate qua la grafica come è ben realizzato il modello toridimensionale di nicchi una funzionalità molto interessante è la possibilità di fare screenshot questi sono alcuni che ho fatto come prova e così era possibile condividere i propri i momenti di gioco ecco l'unboxing di tomb rider pare che qua pronti eccolo qua e tomb rider ci fa vedere anche come si presenta un gioco per nokia engage lo vi faccio vedere subito il gioco perché tra poco ci aiuterà a vedere una caratteristica molto particolare del nokia engage perché con tutto quello che abbiamo visto fino ad ora uno può pensare che questo telefono abbia avuto un successo clamoroso in realtà non è stato così se da un lato la sua forma può essere comoda per la funzionalità di console come telefono molto meno infatti il nokia engage fu soprannominato come tacofon guardate qua che somiglianza con il taco che ho cucinato il mio taco è una variazione della ricetta originale è una ricetta senza carne vegana dove anche preparato l'impasto l'ho farcito poi con una salsa che ho preparato a base di avocado succo di lime e un po' di peperoncino poi dei ceci e dell'insalata ed ecco qua pronto questo gustosissimo taco quando si telefonava bisognava stare così perché qui sul lato c'è l'altoparlante vocale mentre qui in basso c'è il microfono non era invece d'aiuto questo altoparlante per il viva voce perché altrimenti alla fine si telefona così ed ecco qui quindi che sembra che si sta telefonando con un taco magari su questo si poteva solvolare perché comunque si poteva usare l'auricolare il dramma la cosa che secondo me la più inquietante di tutte la vediamo adesso per cambiare gioco bisogna smontare il telefono quindi spegniamo il telefono giriamo rimuovere il coperchio e la c'è pandemonium rimuovere la batteria è un'impresa questa volta è andata meglio rimuoviamo pandemonium di nuovo la batteria ed ecco il knocking è chiuso riaccendiamo quindi il telefono significa inserire di nuovo anche la data e l'ora e alla fine ecco qua tomb rider sì ok eccoci qua alla fine ce l'abbiamo fatta anche qui un gioco con un eccellente grafica tridimensionale allora dove andiamo? aia andiamo a sbattere contro i muri vabbè direi che salutiamo Lara immaginate di dover fare tutto ciò ogni volta per cambiare un gioco il nokia engage rischia di passare da telefono console portatile a volante e al tempo non lo potevate neanche fare il nokia engage era un telefono costosissimo il prezzo in italia era di quasi 350 euro tantissimo in più rispetto al prezzo del game boy advance che costava un centinaio di euro conclusione secondo me nokia ebbe un'ottima intuizione nel vedere un possibile mercato per il gaming sui telefoni forse era un po' troppo presto parlarne in quegli anni e allo stesso tempo secondo me il nokia engage era un prodotto costoso e come visto anche con dei difetti tanto che nokia provò a correre ai ripari proponendo sul mercato il nokia engage qd ma ciò non aiutò le vendite del nokia engage infatti nel 2007 si contavano 3 milioni di unità vendute ben sotto le aspettative di nokia è sicuramente un telefono che fa parte della storia dalla sua forma curiosa e ora raccontatemi di voi e del nokia engage se lo conoscevate se l'avete avuto se l'avete ancora scrivete commentate fatemi sapere io vi saluto ciao e ora assaggiamo il taco cosa non è il taco mi sono confuso di nuovo